Ricorre in appello il sostituto procuratore generale di Palermo, Ettore Costanzo, contro l'assoluzione in primo grado del sindaco dedicato a Angelo Graci e di altri tre imputati al processo per la tangente alla festa di Sant'Angelo. Oltre al primo cittadino del centro marinaro, i giudici del Tribunale di Evigento hanno scagionato dalle accuse l'ex assessore ai servizi sociali Tiziana Zirafi, l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Nicolo Riccobene e l'impresario di spettacoli Carmelo Napolitano, quest'ultimo di Gela. Angelo Graci, che per diversi mesi fu sottoposto al divieto di timore a Licata, venne assolto dall'accusa di aver intascato una tangente in cambio dell'assegnazione di un appalto per uno spettacolo musicale realizzato in occasione della festa del patrono di Licata. Il ricorso è stato proposto in accordo con la Procura della Repubblica di Evigento e in particolare in coordinamento ed interscambio di opinioni con i sostituti procuratori Santo Fornasie e Andrea Maggioni. Questi ultimi nella loro requisitoria avevano chiesto la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione a testa per i quattro imputati. Sia il primo cittadino che gli altri tre furono arrestati nel novembre del 2009 dai carabinieri. L'impresario di Gela Napolitano avrebbe pagato 6.000 euro a Graci, Zirafi e Riccobene per aggiudicarsi l'appalto dello spettacolo con Salvo Larosa, il comico siciliano Enrico Guarneri Litterio e i cantanti Dolce Nera e Daniele Battaglia alla chiusura dei festeggiamenti la sera del 6 maggio del 2009. La relativa delibera fu adottata per 31.500 euro, una somma che sarebbe stata superiore rispetto alle offerte di altre agenzie. Furono due imprenditori dedicate, esclusi a denunciare l'episodio. Sarebbe stato il vicepresidente del Consiglio Comunale, Nicolò Riccobene, a presentare l'impresario Carmelo Napolitano al sindaco Graci e all'assessore Zirafi. La notizia del ricorso in appello è stata appresa dal primo cittadino con un po' di incredulità. Resto sereno, ha commentato e mi difenderò anche questa volta nel processo senza gridare contro nessuno. È la settimana della passione da credente e convinto, ho superato tante avversità e avrò ancora una volta la dignità di difendermi con linearità perché la mia coscienza rimane pulita. Spero che la magistratura possa celermente sentirmi perché questa vicenda possa chiudersi definitivamente.